In occasione del 68esimo anniversario dell'autonomia siciliana, il consigliere delegato Angelo Baiguera, il tecnico Beppe Iachini e Ashraf Lazzara hanno preso parte ad una manifestazione nella quale è stato ricordato il poliziotto Filippo Raciti morto il 2 febbraio del 2007 negli scontri che seguirono al derby Catania-Palermo. Presente anche il presidente della regione Rosario Crocetta è la vedova del poliziotto scomparso negli scontri. Naturalmente è stata anche l'occasione per parlare di campionato e appunto per parlare anche della tragica scomparsa di Raciti. Il tecnico Beppe Iachini in particolare sottolinea la vicinanza del Palermo al sociale. Una commemorazione importante per una persona che ha purtroppo lasciato la vita onorando il suo lavoro, quindi valori alti di principi morali, umani e di attaccamento al proprio lavoro. Il calcio è uno sport, uno sport per le famiglie, per tutti, quindi non deve essere assolutamente motivo di sfogo, di violenza per delle persone che magari, non so se chiamarle persone, vogliono mettersi in evidenza, in luce, andando a fare e ad avere comportamenti fuori dalla normalità e fuori da quelle che sono l'etica, da quello che è l'etica sportiva e le motivazioni per cui lo sport deve esistere, deve essere amato da tutti. Noi cerchiamo di onorare al meglio tutte le partite, se abbiamo riconquistato l'affetto, la fiducia e la stima dei nostri tifosi. È perché il nostro lavoro, il lavoro con la squadra che abbiamo portato avanti è stato quello sempre di voler andare a vincere su tutti i campi, di voler creare una mentalità giusta, di voler avere una squadra organizzata che sappia onorare sempre comunque la maglia, i tifosi e la società. Anche Ashraf Lazar si unisce all'importante messaggio lanciato dal tecnico Rosaneo. Fa sempre piacere essere presenti in questi eventi del genere, sicuramente non fa piacere l'accaduto che è successo, sicuramente visto che siamo calciatori, siamo una società di calcio, facciamo parte di uno sport e lo sport non fa parte di queste cose qua. Noi andiamo in campo per dimostrare e per lavorare tanto, dobbiamo ancora migliorare e il campionato non è ancora finito, dobbiamo ancora far vedere che squadra siamo.